Per il video di oggi ho raggruppato un bel po' di acquisti visto che non sono riuscito a portarvi molti video della roba che ho comprato ultimamente ometterò di inserire in questo video i recuperi fatti da libraccio visto che li inserirò in un video apposito ma vi mostrerò invece tutti i titoli recuperati in fumetteria appunto nell'ultimo periodo vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se siete appassionati di fumetti, manga, cazzi e mazzi vi ricordo poi i miei social in descrizione ed infine vi ricordo anche che un like ed un commento anche a casaccio sarebbero delle cose molto belle, sarebbero delle cose fantastiche, gaudiose al fine di combattere l'algoritmo di youtube che fa di tutto per non farvi vedere i miei video manco volessi svelarvi chissà quale segreto di stato quattro fumetti di merda cazzo ma vabbè ragazzi ma per noi che i fumetti non sono affatto merda direi di cominciare la carrellata di oggi primo volume ragazzi di oggi PTSD Radio acronimo questo di PTSD che sta per Post Traumatic Stress Disorder ma che cazzo di tipo di manga sarà mai questo? ragazzi si tratta ovviamente di un horror sapete benissimo se mi seguite già da un po' quanto cagare mi facciano gli horror infatti faccio proprio fatica a digerire determinate atmosfere determinate scene che in linea di massima mi sembrano proprio tutte uguali ma ragazzi non è questo il caso di PTSD Radio ho letto solo questo primo volume anche perché questa settimana ho recuperato il secondo e vi dico che questo titolo ragazzi mi ha trasmesso una quantità di angoscia veramente molto pesante si tratta di una storia frammentata che va a spaziare in continuazione tra diversi periodi temporali momenti quelli che appunto ci vengono descritti dove assisteremo a delle manifestazioni soprannaturali di quello che è il dio Ogushi ovvero il dio dei capelli detta così vi sembrerà una stronzata pazzesca ma vi assicuro che non lo è affatto infatti non ci troviamo di fronte al classico horror pieno di splatter pieno di mostruosi tar capriccianti e chissà quale altro solito richiamo a questo genere beh sì proprio quei momenti che osserveremo saranno tutti accomunati da questa maledizione piuttosto plausibile direi io che va a richiamare ovviamente tutta la cultura giapponese con tutti i suoi simbolismi con presenze, altari, talismani insomma e che più ne ha più ne metta vi dico che appunto questo è stato l'unico manga horror che ho letto e che mi ha fatto per certi versi veramente cagare addosso cioè non so mi ha ricordato moltissimo alcuni incubi che facevo quando ero ragazzino anche proprio il fatto di sentirsi strattonare i capelli ragazzi vi racconto questo piccolo anedoto in poche parole io sono uno di quelli che quando prende sonno in una posizione il mattino seguente si sveglia esattamente come aveva preso sonno una sera quando ancora andavo alle superiori mi svegliai nel cuore della notte un risveglio direi assolutamente di merda dato che sembrava appunto che come se qualcuno mi stesse prendendo a manate in testa proprio con il palmo della mano e mi battesse qui sulla parte posteriore della testa appunto cercando di svegliarmi colpendomi veramente forte ve lo giuro sensazione appunto di essere colpito che poi è rimasta vivida e presente anche nel mentre cazzo cercavo di aprire la luce cioè stavo cercando la peretta della luce e mi sentivo ancora martellare in testa cioè robe da pazzi ecco però che nel mezzo di tutto questo mi sono però reso conto tastando intorno a me che in poche parole mi ero rigirato sotto sopra cioè con le gambe al posto della testa e viceversa quindi l'unica volta che è capitato in vita mia non è mai successo quindi avendo normalmente alla mia sinistra il muro dormendo a pancia in su a rigor di logica mi sarei dovuto sporgere a destra del letto insomma per accendere la luce ma ovviamente sporgendomi a destra essendo sotto sopra la mia mano nel buio più completo non faceva che battere contro il muro quindi ecco che dopo un paio di secondi di panico dove mi chiedevo dove cazzo fosse finito e dato che continuavo a picchiare contro sto cazzo di muro che non capivo dove ero finalmente il mio cervello ha capito che ero girato sotto sopra e che quindi mi sarei dovuto rigirare nel letto per trovare questa fottutissima peretta della luce insomma dieci secondi di puro panico dato che comunque la sensazione che qualche figlio di puttana mi avesse appena svegliato colpendomi in testa con molta insistenza era ancora ben impressa nella mia mente ecco questa sensazione ricordo che quando ho acceso la luce ho anche cercato sotto al letto ma ovviamente non ho trovato un cazzo di niente e poi ovviamente non sono nemmeno più riuscito a prendere sonno e per un po' di sere anche sono rimasto un po' sul chi va là un po' titubante avevo comunque un po' di cacarella probabilmente ragazzi sarà stato solo un sogno lo so ma minchia quanto cazzo mi aveva preso male cioè ve lo lascio solo immaginare sapete quando vi picchiano in testa oppure prendete una botta e sentite quella specie di fischio acuto quel rumore sordo rimbombarvi dentro le orecchie una sensazione secondo me terribile quella di essere svegliati così con questo rumore che appunto vi strizza proprio le orecchie mamma mia che fastidio ecco che quindi leggere questo manga mi ha riportato alla mente quella sensazione che mi era rimasta impressa dopo quella notte non so se magari è mai capitato anche a voi qualcosa di simile devo dire che la storia è scritta comunque davvero molto bene ci sono dei piccoli spezzoni collegati tra loro da un unico filo conduttore che man mano che appunto si procede nella storia prende via via sempre più forma mi viene da dire tanto bello quanto anche vaffanculo ecco cioè le sensazioni avute durante la lettura sono state queste mi sono meravigliato quindi di come abbia riportato alla mente certi ricordi possiamo dire pure tranquillamente tranquillamente sgradevoli ecco se ci mettiamo poi che da quando l'autore nakayama masaki ha iniziato a scrivere questo manga ha iniziato ad accusare strani malesseri a vedere strane ombre nella sua abitazione fino a poi a scoprire addirittura un santuario vicino casa beh a questo punto non mi resta davvero che dire vaffanculo motivazioni queste per cui ha deciso appunto di interrompere addirittura la storia pensate voi cosa questa che ovviamente crea ancora più suggestione nel lettore in particolare nei poveri allocchi e pagliacci come me prezzo di 15 euro di copertina per ogni volume di questi per un totale di tre volumi se non sbaglio tutti editi ovviamente da coconino press consigliato? boh vi piace l'orro? credo sia quasi d'obbligo per come è scritta questa roba siete facilmente suggestionabili come sottoscritto? beh forse lasciate anche perdere almeno che non vi piaccia trovare certe sensazioni almeno a me ha fatto un bruttissimo effetto un po' come da piccoli dopo aver visto un film dell'orrore cosa facevate? correvate nel lettone di mamma e papà spaventati a morte e con il pannolino pieno di merda solo che ora c'ho 30 anni e nel lettone ci sono solo io con il gatto insomma a parte le gag il come questo fumetto mi abbia riportato alla mente alcune paure che magari avevo proprio quando ero decisamente più piccolo mi ha decisamente spiazzato presenze ombre il sentirsi toccare boh a me ste robe hanno messo i brividi il tutto appunto poi contornato comunque da una grande dose di realismo e di vita di tutti i giorni cioè qui non è che viviamo in un mondo dove le manifestazioni soprannaturali sono all'ordine del giorno ovviamente viviamo degli spezzoni di vita normale dove tac l'autore ci butta dentro questa cosa terrificante questi aspetti del dio dei capelli insomma ripeto esperienza di lettura questa qui è la mia personale quindi magari voi lo leggerete e magari non vi dirà un cazzo di niente questo non posso saperlo io vi dico insomma che mi ha suscitato delle emozioni più forti mettiamola così di quanto potevo immaginare torniamo a parlare di qualcosa di decisamente più allegro dopo avervi riempito appunto le mutande di merda con pts di radio ragazzi passiamo invece in casa jpop con un altro gran bel manga invece sulla musica ovviamente sto parlando di Blue Giant Supreme volume numero 4 ragazzi Shinichi Ishizuka un grande c'è poco da dire questo suo manga il manga che solitamente attendo con più trepidazione tra quelli che appunto sto seguendo siamo ora in Olanda in apertura di questo volume il gruppo jazz capitanato da Dai Miyamoto si sta facendo sempre più conoscere dal pubblico vedremo quindi poi anche la loro partecipazione a questo festival la prima edizione di questo festival jazz seguiremo poi la crescita di tutti i personaggi della band in particolare in questo numero per quanto riguarda il batterista che potete sgamarvi qui in copertina una storia sempre molto bella che ci fa prendere la vita proprio come la prenderebbe il protagonista Dai una vita spensierata e felice appunto finché si continua a fare ciò che vogliamo veramente fare ciò che ci piace veramente fare disegni sempre molto belli come potete vedere sicuramente uno dei manga che più mi sento appunto di consigliarvi anche se non ve ne frega una sega di niente dei manga sulla musica provatelo secondo me recupero economicamente posso capire sia pesante visti appunto i 15 euro a volume ma che secondo me restano decisamente ancora ben spesi ve lo assicuro prossimo volume ragazzi Claymore numero 19 del maestro Nuri Royagi inutile dirvi come da un po' questa parte mi stia rompendo un po' i coglioni questa lettura io come sapete adoro il fantasy soprattutto quello oscuro bello tretro e tenebroso ma gli scontri frenetici e i power up che ormai sembrano non avere più fine sembrano voler ridurre tutto insomma ad un puro battle manga manga che almeno per quanto riguarda la prima decina di numeri non sembrava appunto voler prendere esclusivamente questa piega no vabbè in questo numero ragazzi che cosa succede vedremo Miria del Miraggio fare una pazzia buttandosi a capofitto in un'impresa in cui solo un completo imbecille deciderebbe di tuffarsi quindi cosa posso dirvi peccato peccato veramente un bel personaggio che secondo me così viene sminchiato e buttato nel cesso tirando la catenella dell'acqua vedremo se sarà così oppure no ma io credo che ormai il pasticcio sia fatto e per non farci mancare niente ragazzi nell'aria si annusa lontano un miglio la puzza di che cosa di un altro fottutissimo power up per la nostra Claire un power up che stavolta se effettivamente sarà così credo sarà anche forse troppo esagerato insomma staremo a vedere per ora potenziamenti su potenziamenti nemici sempre più forti che si potenziano a loro volta cioè manco in Dragon Ball l'avevo visto una roba del genere porca puttana vabbè speriamo bene per quanto mi riguarda il maestro Noriro Yagi sta iniziando a cagare fuori dal vaso già da un po' prossimi due volumi volume numero 2 e numero 3 dei fiori del male non di Baudelaire ma di Shuzo Oshimi mi ero già sperato il primo di questa serie e mi era già piaciuto molto eccoci quindi anche con gli altri due freschi freschi di ristampa Shuzo Oshimi come sempre riesce a coinvolgere con i suoi manga dalle tematiche molto molto forti tematiche perverse e direi anche piuttosto inquietanti ecco non un inquietante perché ci siano degli elementi horror all'interno ma inquietante proprio per quella che è la psicologia che il maestro riesce a nascondere dietro a tutti i suoi personaggi malati di mente Nakamura la ragazzina strana dalla quale scatuleranno poi tutte le perversioni contenute in questo manga io vi dico la vorrei prendere a ceffoni sul muso cazzo vedi questo badile il protagonista Kasuga poi è senza palle e senza spina dorsale è un burattino cazzo nelle banni di Nakamura e vorrei prendere a sberle pure lui e dirgli oh ma cretino svegliati cioè ma niente credo che insomma anche con una mazzata in testa questo qui non ce la farebbe è un caso perso qua poco ma sicuro ma al di là di questi sfoghi bisogna comunque dire che per riuscire ad innervosire il lettore in questa maniera questi personaggi secondo me devono essere scritti veramente dannatamente bene questo vuol dire che inevitabilmente si finisce per immedesimarsi in tutti loro e le emozioni che il maestro vuol far provare al lettore qui sono secondo me fantastiche perché? perché diametralmente opposte sotto più punti di vista ovvero in primis quello che è la perversione di Nakamura e quello che è l'innamoramento puro e dolce invece di Saeki ragazzi questo titolo ve lo consiglio mi sono già letto tutti e tre i primi volumi ristampati attendo con ansia gli altri provatelo perché secondo me merita davvero un sacco due e tre prossimo manga ragazzi ranking of kings numero 7 si tratta della solita lettura estremamente leggera e nel chill che io faccio volentieri soprattutto seduto nel water o nei momenti tappa buchi o libera buchi dipende dove siete in quel momento di solito lo comincio e lo finisco in un colpo solo non mi porta mai via più di 20 30 minuti più o meno e sono sicuro che non piacerà a tutti alcuni lo troveranno anche banale ed in effetti lo è insomma non c'è molto da dire ma comunque credo sia una bella storia credo sia un bel racconto anzi il termine giusto forse è dire che sia una bella fiaba questo è il miglior modo per rendere l'idea di questa storia in questo numero Boggi che cosa farà tornerà al castello dando sfoggio flexando tutte le sue nuove abilità la trama appunto si infittisce un pochettino grazie appunto all'arrivo anche di tutti i cavalieri dell'oltretomba un gran bel casino un gran bel trambusto vedremo insomma cosa cazzo succederà nel prossimo numero prezzo di 6 euro e 90 a dire la verità potrei anche interromperlo dato che non si tratta di una lettura così fondamentale e appunto necessaria ma non so spiegarvi nemmeno io bene il motivo ormai credo di essermici affezionato poi abbiamo il volume numero 13 però Shinoko qui ragazzi buio completo lo sto ancora prendendo ma non sono per niente impari con la lettura tanto che non appena andrò in fumetteria sto però all'abbonamento almeno fino a quando non mi metterò impari semmai appunto lo farò manga sul mondo dello spettacolo sulle idol che altro dire insomma niente disegni carini un po' troppo pucciosi per i miei gusti titolo che in questo caso sarà uno degli ingredienti della lista della spesa quindi uno di quei titoli che ho preso di cui non so dirvi un cazzo di niente quindi andiamo avanti prossimo manga gacciacuta volume numero 6 di kei urana classico battle manga che in questo numero farà faville appena rientrati dopo essere stati alle prese con gli stivali puzzolenti di amo che vedete qui in copertina che anche qui vabbè potere abbastanza discutibile ecco che subito il capo dei vandali aggredisce rudo e i suoi poveri amici viene impostato il classico scontro uno contro uno tra i vandali e i ripulitori che si dividono appunto per scontrarsi a coppie sicuramente un frangente che nell'anime sarà molto elettrizzante quando uscirà per ora ce lo sorbiamo ce lo spariamo qui nel manga diciamo che ora come ora non si tratta di roba che voglio dalla voglia di leggere vediamo dopo insomma questi scontri come andrà a finire anche qui non vorrei dilungarmi troppo in questo titolo che effettivamente si mi intrattiene ma nulla di più personalmente cerco delle letture decisamente più profonde magari anche un po' più mature ecco disegni come vi ho già mostrato sempre molto belli personaggi assolutamente stravaganti e che anche solo appunto nel vestiario vengono caratterizzati davvero molto bene vediamo un po' se con questi scontri usciranno delle belle abilità da parte appunto dei nemici e dei ripulitori di cui ancora non conosciamo non sappiamo una mazza sarà questo un po' il momento decisivo quasi sicuramente per decidere se continuare o meno questo titolo prossimo manga ragazzi un volume unico che ho affraffato in fumetteria e che sapendoci avessero fatto anche un film di animazione sopra ho deciso appunto di trovare in un unico volume abbiamo in questo angolo di mondo la new edition edita da planet manga prezzo un po' altino se devo essere sincero di 19 euro e 90 l'immortacci esatto manga che mi è stato consigliato da un amico che lo ha letto e che in merito a gusti riguardo a storie un po' più mature tende ad avvicinarsi molto anche a quelli che sono i miei di gusti manga dell'autrice fumiglio Kouno di cui non conosco alcuna opera e di cui credo ci sia anche gran poco in Italia in questo angolo di mondo che cos'è è una storia decisamente drammatica che ci riporta nel periodo della seconda guerra mondiale in un paesino del distretto di Kure la protagonista si chiama Suzu è proveniente da Hiroshima ed è costretta o insomma decide anche lei comunque di sposare un giovane tenente della marina imperiale giapponese quindi che cosa fa si trasferisce ovviamente nel villaggio natale del suo sposo quindi appunto questo distretto di Kuse da qui seguiremo quella che è la sua vita quotidiana quello che sarà il duro lavoro che appunto una donna dell'epoca era costretta a compiere per il mantenimento della famiglia per il mantenimento della famiglia dello sposo in questo caso ma come anche d'altra parte dell'intera casa il mantenimento dell'intera abitazione una storia sicuramente di povertà dove spesso si cerca appunto di arrangiarsi di quel poco che si trova o di quel poco che si ha un viaggio che poi ci riporta di pari passo su due linee narrative parallele una ovviamente è la vita di Suzu mentre l'altra ovviamente è la linea che segue il profilo storico della narrazione introducendo appunto tutti quegli elementi storici che ci fanno capire come la popolazione stessa dell'epoca stesse vivendo e subendo per certi versi tutte le conseguenze del conflitto mondiale conflitto che ovviamente porterà il dolore ed il dramma in un continuo crescendo dall'inizio alla fine di questo racconto la narrazione invece principale che ovviamente si concentra sulla protagonista seguirà tutto il suo aspetto sentimentale quindi il non sentirsi amata la gelosia ed il ricordo di quello che è stato il suo primo amore un dolore è quello della protagonista che andrà quindi in un crescendo proprio come quello della popolazione che in generale sembra soffrire come abbiamo detto prima sempre di più tutte queste conseguenze che siano di natura economica o sociale derivanti dal conflitto un manga in volume unico che mi sento assolutamente di consigliarvi in particolare se apprezzate queste storie di vita quotidiana in questo caso ambientate nel periodo Showa in particolare durante la guerra sapete che a me piacciono molto questo genere di storie proprio come ad esempio Polvere di stelle anche se in quest'ultimo invece ci ci vengono presentati dei protagonisti maschili e appunto si parla del post guerra in questo angolo di mondo comunque ci racconta invece un dolore ed un disagio secondo me è simile perché appunto il tema è sempre storico della guerra della povertà del non avere nulla ma per certi versi ben diverso appartenente in questo caso invece ad una donna che cerca di farsi strada tra tutte quelle insidie di una vita in un periodo particolarmente buio che appunto non ha colpito solo il Giappone ma direi il mondo intero prendetelo provatelo una bella lettura matura la scoperta di una società di una civiltà molto diversa dalla nostra ragazzi sotto diversi e tantissimi punti di vista la cosa più bella di tutte all'interno del volume secondo me è proprio come l'autrice riesca a far trasudare tutti quei luoghi comuni tutte quelle usanze tipiche della cultura giapponese e andare a mostrare al lettore proprio come queste sebbene ormai il Giappone abbia ampliato quelle che sono le proprie vedute nei confronti tra virgolette degli stranieri come riesco appunto a mostrare quindi come ancora questi dettami culturali si facciano sentire nei rapporti ad esempio tra le persone e nel giudizio che le altre persone possono avere della famiglia qualora insomma queste regole non scritte non vengano rispettate è importante quindi essere una brava moglie una brava moglie che cosa fa deve fare il bucato essere sempre gentile vestirsi decorosamente e non far vergognare il maritino in pubblico insomma elementi ragazzi che pensate anche nei manga ambientati in periodi decisamente più attuali possiamo ritrovare basti pensare non so a Irene of Love e a tutto il bigottismo che ancora negli anni 80 abitava la mente dei giapponesi in particolare proprio nei paesini più isolati e meno colpiti da quello che è il fenomeno dell'occidentalizzazione vabbè qui ragazzi entriamo in argomenti di cui potremmo stare qui per ore a discutere ci sono moltissimi manga che affrontano queste tematiche soprattutto diciamo creando una critica attorno a quella che è la società giapponese quello che posso dirvi io invece è semplicemente provatelo io sicuramente credo mi sparerò anche il film d'animazione spero solo sia fatta bene perché le potenzialità per commuovere diciamo penetrare nell'animo dello spettatore questo titolo secondo me le ha assolutamente tutte prossimo volume ragazzi Gaku numero 6 torniamo dal maestro Shinichi Shizuka purtroppo con questo non posso dirvi nulla perché non l'ho ancora letto sono ancora fermo a volume numero 5 a causa di una molla di roba da leggere incredibile qualcosa mi è rimasto inevitabilmente quindi indietro e non so cos'altro dirvi appunto su questo Gaku numero 6 posso solamente dirvi che finora fino a dove sono arrivato con la lettura ovvero il volume numero 5 il manga sull'escursionismo di Shizuka mi è piaciuto molto e a breve appunto ricomincerò la lettura disegni che ora vi mostro molto belli ed edizione DJ Pop che devo dire sempre fantastica adoro le loro Kanzenband poi queste di Gaku e quelle dedicate ai Shizuka in generale quindi Gaku Blue Giant Blue Giant Supreme credo siano fatte veramente tutte molto bene ma queste di Gaku secondo me sono proprio le più belle in assoluto guardate che copertina elementi in rilievo dietro vabbè stiamo parlando di carta straccia vaffanculo smettiamola mi sento di continuare a consigliarvelo proprio per la capacità di scrittura che ha il maestro Shizuka io personalmente adoro quella che è la sua semplicità ma allo stesso tempo ragazzi cosa succede lui riesce ad essere sì divertente sì semplice ma cosa più importante di tutti mai banale prezzo di 15 euro siamo al volume numero 6 di 9 totali che saranno anche qui si tratta di una bella spesetta ma io continuo a farla decisamente volentieri prossimo titolo di oggi miei cari torniamo invece al Gekiga con un autore di cui ancora non conoscevo nulla e di cui anche piuttosto di recente è uscita una raccolta di storie sto parlando di Oiji Suzuki e del suo Tokyo Goodbye siamo di fronte di una classica raccolta di storie brevi che il maestro Suzuki scrisse per la rivista Garo a partire dal 1969 dove il maestro andrà a descriverci dei momenti di vita in particolare di personaggi molto molto giovani in un periodo storico diciamo pre-boom economico degli anni 80 una situazione quindi di disagio una situazione di disorientamento per dei personaggi che non hanno ancora trovato un posto nella società cosa questa che vi ho appena detto che appunto ho letto su internet ragazzi giusto per farvi capire quelle che sono le tematiche che il maestro predilige non è quindi farina del mio sacco appunto perché non l'ho ancora letto cazzo tematiche queste che però così su due piedi leggendo in internet mi ricordano molto i fratelli Zuge che spesso ragazzi ci raccontano appunto dei bassi fondi ci raccontano di quello che è il disagio sociale di tutte quelle persone di tutti quei ceti meno ambienti che appunto abitano soprattutto quelle che sono le realtà maggiori di città come possono essere Tokyo Yokohama o Osaka quindi le più popolose e caotiche sicuramente ragazzi vi arriverà un episodio sulla mia miniserie alla scoperta del Gekiga sicuramente non se la inculerà un cazzo di nessuno e sicuramente io cosa farò me ne sbatterò altamente il cazzo e ve la spiattellerò sullo schermo senza alcuna vergogna qui sul mio canale quindi mettetevela via ma in realtà boh non so perché sono stato così antipatico nel dire questa cosa ma vabbè cioè se volete la guardate se non volete non la guardate easy prezzo di 20 euro per Oblomove Edizioni che finalmente ragazzi porta anche qualche altro autore di minchia vedremo dopo che lo avrò letto cosa mi lascerà questo titolo ragazzi per oggi abbiamo terminato qui con i manga e quindi passiamo a quello che è forse l'unico recupero occidentale se così vogliamo definirlo si tratta di un volume francese l'unico recupero ragazzi che ho fatto appunto con gli sconti BAU quindi un volume che è qui nello scaffale delle cose appunto da mostrarvi già da un bel po' sto parlando del primo volume della fortezza quella che viene definita ragazzi la saga fantasy umoristica più famosa del fumetto francese e quindi chi cazzo sono io per non leggerla dato che il fantasy mi piace moltissimo l'edizione proposta da BAU Publishing ragazzi è la prima raccolta al mondo dedicata alla serie una serie lunghissima che vedrà poi moltissimi anche collaboratori che parteciperanno nella realizzazione di quelli che ragazzi pensate dovrebbero essere stati addirittura 300 capitoli serie però che purtroppo sembra essere stata interrotta nel 2014 quindi ormai dieci anni fa ho letto i primi due capitoli ragazzi o almeno così o almeno così ho letto insomma in internet può essere che spero di non aver beccato un articolo vecchio in caso blastatemi qui sotto nei commenti ho letto i primi due capitoli ragazzi vedete che c'è ancora il segnalibro su e se devo dirvi se devo dirvela tutta posso dirvi appunto che si tratta di una gran bella storia assolutamente di intrattenimento verremo quindi catapultati in questo mondo tipicamente fantastico abitato da magia da mostri dalle più disparate fattezze il protagonista in questo caso sarà Herbert questo papero che vedete dietro al lucertolone rosso un papero debolissimo e abbastanza anche sfortunato che fin dalle prime battute dovrà contentare il capo il padrone appunto della fortezza da qui il titolo dell'opera dove lui lavora immaginatevi questa fortezza come una sorta di dungeon dove fino a poco prima il papero Herbert sembrava avere un ruolo d'ufficio ed ora invece si ritrova possiamo dire a capo della sicurezza ecco due ruoli diametralmente opposti a fare un po' da butta fuori ecco non mancheremo quindi di accompagnarlo nei suoi terribili fallimenti carichi appunto ovviamente di umorismo sotto ogni punto di vista per proseguirlo in un addestramento tanto sconclusionato quanto inaspettatamente utile direi stranamente un fumetto senza chissà quali pretese un gran prodotto di intrattenimento che va a sviluppare tramite una storia suddivisa in capitoli appunto appunto tutte le sue vicende unendo la trama in un unico filone che porterà ad un ad un esponenziale crescita del personaggio del nostro protagonista vi dirò io l'ho cominciato poco prima di iniziare a registrare il video volevo provare a leggere qualche paginetta giusto per capire se fosse una cosa per me oppure no e alla fine come al solito mi sono sparato quasi più di 100 pagine quindi prima impressione posso dirvi molto buona disegno dal tipico stampo umoristico francese una serie davvero lunga ragazzi dove moltissimi autori hanno partecipato arricchendo artisticamente questa magnifica saga fantasy ti è beccatevi ancora un po' di disegni prezzo per volume di 25 euro vi dico secondo me in generale un prezzone vista comunque la quantità di pagine che sono appunto tutte a colori e una carta davvero una carta lucida davvero molto bella assolutamente un pro come abbiamo detto il numero di pagine 292 che strutturano il volume in 6 capitoli di circa 48 pagine altro però ancora secondo me poi anche il contenuto del tempo di intrattenimento sebbene si tratti infatti di un fumetto umoristico è pur sempre un fumetto bello denso pregno di testi diciamo pure che le 100 pagine che mi sono letto mi hanno tenuto occupato per ben un'ora intera e mi è volato il tempo comunque quindi ecco che l'intero volume comunque regalerà secondo me dalle due orette e mezza alle tre orette scarse di lettura cosa niente male secondo me rispetto anche a molti altri fumetti con molte più pagine ragazzi è divertente è ben disegnato un fantasy diverso dal solito umoristico quindi e spigoloso ecco quando serve questo è importante ve lo consiglio vivamente credo che con i prossimi sconti BAU dell'anno prossimo potrei fare un bel recuperino massivo ragazzi anche per oggi è tutto non vi ho mostrato le cose prese da libraccio come vi ho detto prima perché mi deve arrivare un altro pacco quindi dedicherò un video apposito all'usato dove lo intitoleremo ho svaliggiato vinted e rubato da libraccio ecco giusto per restare in tema di passamontagna e furti da capogiro non è vero mi dissocio assolutamente non è mai stato rubato niente anzi qui si paga tutto anzi paghiamo tutto troppo cazzo vi ringrazio quindi per essere rimasti qui con me fino alla fine e vi ricordo quindi tutti i miei social qui sotto in descrizione potete trovare il canale telegram dove venire a farvi spennare appunto come vi ho appena detto con un mondo di offertone su vinted e una marea di consigli golosi troverete poi il mio profilo instagram dove sono convinto che prima o poi dovrò un attimino restaurare dove dovrò svecchiare ma comunque sarà interessante se volete scoprire cosa mi sto leggendo prima ancora ragazzi che ve ne parli ultimo e decisamente meno importante il mio reddit sto ancora elaborando questa cazzo di piattaforma non ho la più pallida idea di come gestirla e tanto meno la voglia di farlo devo essere sincero ma frega cazzi se vi va seguitemi anche lì magari un giorno ne ricaveremo un ragno del buco cosa importantissima ragazzi per supportare il canale quali sono le cose migliori che potete fare appunto iscrivervi ovviamente lasciare un bel like e commentare qui sotto con quel cazzo che volete sempre ovviamente nei limiti della decenza mi raccomando cercando di stimolare così quella merda dell'algoritmo di youtube grazie per oggi non posso che ringraziarvi ancora una volta ed augurarmi di rivedervi ad un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti